La palla canestro per me è tutto, è vita, ho cominciato prestissimo, già all'età di tre anni palleggiavo in palestra guardando gli allenamenti di mio fratello, è gioia, è passione, è amore, insomma è tutto, è tutta quanta la mia vita. Sicuramente la Sede Azzurra è una grande famiglia, insegna molti valori, da quando mi sono trasferito appunto a Roma e ho capito tante cose, sia riguardo la palla canestro che riguardo la vita di tutti i giorni, sicuramente Germano mi ha aiutato tantissimo, a lui va un grazie per l'anno che ho trascorso appunto in Via Flaminia e mi ha fatto tornare la voglia di giocare a basket. La componente fondamentale appunto è l'istinto, infatti qui i spazi sono molto più larghi, si gioca meno controllati, si deve far forza con il proprio istinto e oltre che con la propria tecnica è il proprio ingegno. Il 3 contro 3 è la vera essenza del basket di strada. Per me è la mia prima manifestazione con la Maga Italia, sono onorato, sto dandolo praticamente tutto quello che ho anche in questa manifestazione, mi sto divertendo, voglio continuare così. Sono uno a cui piace tanto lavorare e non mi sento veramente forte in qualcosa, appunto a lavorare ogni giorno sui fondamentali del basket e dalla velocità dei piedi ad esempio al palleggio, voglio essere un giocatore completo, lavoro ogni giorno per questo.